bello amici grandissimi amici miei come state come state come state come state arri eccoci qua come state i miei cari amici di twitch devo mettere la scarpa ciao amici devo condividere la live e poi partiamo partiamo a fuoco partiamo a comprare partiamo a fare un sacco di cose fighissime c'è la scarpa che giuro che la butto giuro giuro che prima o poi la butto via eccoci qua ok che sudata devo mettere le scarpe ok ok uh che bella quella lì ciao amici di twitch benvenuti ragazzi mi raccomando scrivete il live così vi saluto spettiniamoci spettiniamo spettiniamo amici miei allora stasera correrà carla al nurburgringherino ok quindi io vi aspetto vi aspetto a todos adesso andiamo a fare un po' di farming che c'ho bisogno un po' di soldinelli cosa ne dite voi e dopo che bella sto toyota molto bella toyota gazo racing come mai hanno stanno mettendo così tanto la toyota è qualcosa che è uscita oggi interessante toyota gazo racing per caso lo sapete ciao amici di twitch benvenuti ragazzi per caso sapete per quale motivo hanno fatto vedere così tanto la toyota allora facciamo one moment farming e poi andiamo a correre amici miei e andiamo a comprare anche le auto le autos gearlib autos oceania tokyo questo 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 ciao stream element è Grazie a tutti. Ok, condivision et liven, andiamo, oh, allora, sicuramente, esatto, 10 secondi. E' impossibile correre senza frenare, raga. Come fanno in un minuto e dieci, sinceramente? Oh, bello. Come fanno in un... Soprattutto a sta curva qui. Io vorrei vedere un tempo di quelli che dicono così, però, eh. Uno e dieci. Uno e dieci, raga, è tanta roba. E' quanto, oh la la, oh la la, 23 secondi di penalità. Possiamo mangiarci anche una mandorla, ragazzi, nel frattempo, eh. Una mandorlina. Uno, via! 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 ma perché non frena? vabbè perché c'è bagnato ciao Fabrizio ciao Midico benvenuto alla live con Gran Turismo stasera compriamo un sacco di macchine per questo che ancora adesso che non eravate arrivati voi amici ho deciso di farmi un po' di farmettino un po' di farmengherino e poi ciao Sharder grandissimo buonasera buonasera amici miei buon giovedì sera todos mondos oi 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 è un po' come un pungible qua sui smuros allora sto vedendo una serie su Netflix dove ci sono i messicani l'argina del sud del sud sempre si ed è figo e parlano tipo cabrone e probabilmente mi sentirete dirlo spesso ok c'è gente che riesce a farla non ai dieci ma come è possibile non ai dieci non ai dieci è impossibile vabbè poi ho cannato ma vabbè allora amici andiamo a comprare automobili costose e le proviamo ho visto nella quando mi ha caricato la parte iniziale che c'è una Toyota che non avevo mai visto non so se solo la livrea tra l'altro a me manca anche l'altra Tomahawk che in realtà volevo comprare e mi manca anche di fare il trofeo dei 600 all'ora è ancora bagnata la pista dopo voglio andare in Assazia poi corre la mia moglie Carla al Nürburgrino al Nürburgr Nordschleife ho il problema della Tomah ciao ragazzi benvenuti ragazzi stiamo farmando giusto giusto un pelino per comprare un botto di macchine voglio comprare anche l'ultima Tomahawk sinceramente quando fai la live su Fortnite allora domani sera Warzone Fabrizio perché la live con Fortnite le faccio col grandissimo Morris ciao Mattonella grandissimo ah ah grandi ragazzi allora i live con Fortnite le faccio con il grandissimo Morris e con il grandissimo mio figlio Zaneboy quindi domani sera il mitico Morris voleva giocare a Warzone quindi io credo che la live con Fortnite la faccio lunedì comunque ti faccio sapere ok seguite sempre i social ragazzi così sapete quando faccio la live io quando arriva Morris quando arriva il mitico Pierpaolo quando arriva il mitico Lord e il mitico Zubi aspetta 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 oi 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 caramba allora ah ah grandi ragazzi grandi ragazzi grandi ragazzi io sono veramente stanco da lavoro ma stasera ho proprio una bella voglia di fare di giocare a un sacco di rob bene 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 grazie Emanuele sto sto un po' stanchito sto vedendo una serie messicana su Netflix che parlano tutte tipo cabron puto tutta sta roba qui allora parlo un po' così e sto bene sto bene solo che è un po' stanchito tra un po' arriva Carla che correrà al nurburgerino arriverà mia moglie Carla che si sta a preparare e vabbè raga io qui faccio la penalità perché sinceramente non è che mi sbatto più di tanto a fare i tempi con una macchina che va a 77.000 km in più di tutte le altre e solo farming di soldi perché voglio comprare un sacco di macchine allora oh ecco qui che arriva mia mogliettina ciao amore mio ciao patata perché non arrivi subito ah ok dai si chiama sa mamma se poi vieni a mor dai che devo eh cambiare scarpe sennò mi spacchi il joystick metti le scarpe dalla tenis ok ragazzi ho sempre la finalità ti dissocii categoricamente ciao ragazzi ciao amici di twitch come state raga grande grande Pierpaolo stavo dicendo che domani sera facciamo la mega live io Pierpaolo il dissociatore il mitico lord oh ciao Pierpaolo ciao Sharder Sharder l'ho già salutato stavo salutando Pierpaolo ragazzi e questa macchina non frena nulla e stavo dicendo che domani sera io Pierpaolo lord alessandro e il mitico morris facciamo warzone warzone forse se tutto va bene magari arriva anche il zubituzzo tv a farci compagnia adesso poi lo sentiamo io sono andato oggi a vedergli la live e va forte va forte va forte bravo bravo è un importante ragazzi che ci dobbiamo divertire divertire divertimento puro adesso compriamo un sacco di macchine la warzone dobbiamo ancora aggiornare allora tu amico mio Sharder aggiornalo perché se domani sera non c'è tanta gente il mitragliatore vieni dentro anche tu ok se no comunque volevo fare anche una warzonata mitico Sharder visto che allora voi aggiornate tutto aggiornate anche fortnite se vi va poi aggiornate vabbè gran turismo per forza vault of drums e visto che penso che siamo tutti a casa sabato domenica lunedì almeno cioè più o meno quasi tutti possiamo fare anche multi live nel senso invece di fare solo la live lunedì sera a warzone o a fortnite dipende tutto da grandissimo moris ragazzi eh non dipende da me a fortnite non giochi ah ok ok dai a fortnite non giochi allora aggiorna solo warzone ok così poi ti faccio sapere al massimo possiamo fare un'altra live visto che ci sono tre giorni a disposizione con con noi eh visto che per la serata così sono già stati organizzati i posti c'è anche il mio amico samuele mister misterio che è bravissimo anche lui e ha voglia anche lui di giocare con noi possiamo fare altre live ok su warzone perfetto ragazzi oppure non lo so magari metti che domani sera il grandissimo moris deve andare a letto le 11 perché comunque ricordiamoci che è ancora giovane possiamo giocare magari anche un po' di più ok e quindi poi se vieni live possiamo sempre metterci d'accordo allora non lo so se faccio l'online ti dicevo quella cosa oggi vediamo un attimo come va la situazione se puoi stare dentro in live così ci divertiamo insieme e poi dopo decidiamo ok decido dopo perché ragazzi io devo fare un sacco di cose stasera comprare un sacco di macchine provare le prove sul circuito far giocare Carla al Nürburgring al Nürburgrino al Nürburgrino ciao amici dove sei Kevin quando serve il tuo aiuto Nürburgring e Nord Schleife l'amico Kevin che mi dice come pronunciare bene il Nürburgrino e d'altronde a Carla gli piace si è proprio trovata con Nürburgring cioè roba assurda perché uno si trova non si trova con Monza che sono 4 curve e si trova con Nürburgring che sono 374 vabbè e comunque amici e amiche miei iscrivetevi al canale e scrivetevi al canale e scrivete quando entrate in chat nella mia chat scrivetemi che vi rispondo ok che vi saluto vi saluto questo 5 secondi è derivato da cosa da un da un nulla e la quina frizzante amore si strano che strano che online non ti ho spiegato il motivo forse che ho capito per troppo bordello perché non riesco a dialogare più di tanto a parlare tanto chiaramente essendo in tanti non si può per dire come sto facendo adesso caspiterina caspiterina e quindi non saprei dirtelo sono prove che sto vedendo e ai 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 caramba ai 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 qui ho bruciato ho bruciato gli 825 mila in questo lasso di tempo l'ottavo giro bruttissimo ottavo di giro ci sono dei ragazzi nel gruppo grandissimo gruppo gt italia gran turismo italia che fanno 1 e 15 a parte che io non mi sbatto proprio per niente e probabilmente loro cambiano le gomme adesso e mettono le gomme non potrei cambiare le gomme però eh è perché voglio meno sbatti cioè mi sembra che ci sia ancora acqua giù cioè vedi che fa la scia d'acqua mi sembra però potrei provare a mettere le gomme dure cosa dite ragazzi proviamo queste gomme non tengono più niente devo andare tipo in mega relax oh ragazzi va che andiamo a comprare un sacco di macchine rimanete qui con noi c'è una Lamborghini se non ho visto male prima una Lamborghini fighissima da 800.000 per quello che sto facendo eh sì e infatti sono rosso fuego e ritorniamo a il il programma che sto vedendo su Netflix della regina del sol no adesso vado a cambiarlo dai tutte le volte che ho farmato non ho mai cambiato le gomme perché non avevo voglia di stare qui a perdere il tempo ma c'è voglia di cambiare le gomme vado dentro a cambiarle le metto dure perché davvero queste gomme qua non tengono nulla vedi che non frena neanche mattonella quando scrivo un chat che non vedo più la chat allora ci sono delle problematiche ogni tanto orca locas la mia moglie a volte non riesce a scrivere su Android e e non so se è solo una questione di Android o forse anche di di Apple ho visto questa cosa qui 14 secondi per la vita dove se le inventate ma perché mi venite addosso ma perché mi vengono addosso cioè è questo che non riesco a capire perché non capisco non capisco non capisco vabbè da questo giro vabbè entriamo in box e non mi ricordo più cosa stavo dicendo raga ok cambiamo le gomme assolutamente sì mettiamo dure il rifornimento non serve ah non avevo neanche ciao Luca grandissimo Luca sto facendo sto facendo un po' di girozzi eh con la mitica Tomahawk per fare i soldini per comprare una Lamborghini se non sbaglio eh tostissima Luca e mi raccomando amici di Twitch che entrate dentro della live scrivetemi così scrivete nella chat così vi posso rispondere amici miei eh 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 adesso si che tiene adesso si che tiene vabbè li sono andato addosso e anche qua sono andato addosso non è che sembra che tiene tantissimo vi dico la verità poi voglio andare in Alsazia a fare la gara ho fatto dei video se volete eh il settaggio della Tomah eh per fare questo qui c'è un missile si si amico mio guarda aspetta che quando si apre è una cosa incredibile perché quando si apre gli alettoni per farti girare di più è incontrollabile praticamente gira troppo gira davvero troppo comunque adesso finiamo che mancano solo due giri andiamo a comprare macchine e provarle provare e comprare comprare e provare comprare e provare ho comprato tutte le Ferrari disponibili ho comprato adesso andiamo a comprare un sacco di roba e le proviamo e le proviamo poi volevo comprare anche l'altra Tomah che è quella per fare il trofeo dei 600 km che anche quella non mi sembra niente male guarda questo qui che mi vuole è una cosa incredibile della Tomah ha una potenza impressionante facciamo un po' di nos guarda come frena come tira su tutti gli alettoni incredibile allora è della Dodge ed è un prototipo sono le concept eh amici miei e niente ragazzi facciamo un po' di compere stasera rimanete nel canale scrivetemi in chat quando entrate così vi posso salutare scrivete ciao al vostro nome quello che volete e vi ricordo domani sera Warzone col mitico Pierpaolo il mitico Alessandro e il mitico Morris amici miei il mitico Morris dei Kulesh giochiamo e ci divertiamo insieme 10 secondi così stasera è un po' a casaccio le penalità me le calcola un po' così vabbè e poi Luca ho comprato un sacco di ma perché quella curva mi da via ho comprato un sacco di Golf e sto correndo con la Beetle della Volkswagen che è fighissima 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 possiamo correre anche il Nürburgrino con la Beetle così ti faccio vedere ciao amici di Twitch benvenuti ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale e scrivetemi in chat così vi posso salutare allora dai dai abbiamo finito anche questo farming da 825 mila anche se non credo di prendere 825 mila perché sinceramente gli sono andato addosso a una macchina però a volte non lo calcola vedete qui è bagnato e fa capricci oh sta gara non c'è una volta che non ho preso la penalità neanche una incredibile ciao Dottor Master basta farmare ciao gioco gioco ah bello Dottor Master se farma e se compra faccio farmare anche mia moglie e mio figlio di poverissimo così almeno vi porto in live un sacco di robe fichissime nuove un sacco di macchine un sacco di roba volevo comprare anche l'altra Tomahawk ciao gioco gioco grandissimo domani ti aspetto gioco gioco a parte stasera che stai qui con noi a divertirti in Gran Turismo ma domani sera c'è il grandissimo Morris Warzone mamma mia stasera non ci siamo proprio c'ho le penalità addosso e il mitico Pierpaolo è Lord forse forse c'è anche Sharder domani sera si gioco gioco domani sera si no stasera no stasera qua è tutto bug poltoni di tutti devo andare lo stesso è vero hai ragione oh mio dio scusate ragazzi cioè quando apre gli alettoni la Tomah oh raga è impressionante gira tantissimo sembra proprio che che non ho mai fatto un giro nella mia vita di di Gran Turismo di qualsiasi gioco di macchine purtroppo è un po' così la Tomah è un po' così dai comunque andiamo a concludere sta gara farming se volete amici miei di Twitch è in live sul suo canale ma chi Morris bella ha attivato il canalino allora ma sei sicuro quella è la strada per girare qua ti consiglio di usare quella dalla strada ma quale è la Tomah oh si parla della Tomah Dr. Master ah la visuale quella da dentro fischia si si no ma di solito la gioco questa qua da fuori perché piace alla gente e così a meno vedono la macchina che va io uso sempre la visuale da dentro come gioco gioco scrivimi un attimo che cosa sta succedendo chi è di live no dentro fuori ma quella che che uso io non lo so si però non ho visto da nessuna parte pubblicato che andava in live ma sei sicuro ma dove che non non ce l'ho scusa come si chiama Morris eh si eh si è è vero non so se c'ha l'audio è vero è vero è vero grande Morris è in live si 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 l'ho salutato adesso 825 mila amici grandi 18 milions vi piace il 18 milions a saperlo ero anch'io in live facevamo un mezzo squadrone ah eh t'ho visto oggi t'ho visto oggi t'ho visto un pezzettino quando sono arrivato a casa che mia moglie ti stava guardando grandissimo mi è piaceva l'Alsazia ok arrivo eh ok perfetto allora allora amici miei allora amici miei abbiamo la bellezza di 18 milioni andiamo a vedere subito 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 se c'è qualcosa da comprare nelle no non c'è nulla andiamo subito a vedere se c'è qualcosa da comprare in queste macchine qui ho limitata quindi la toglieranno ho esaurito il maggiolone io ce l'avevo la Porsche tanta roba mi sto trovando da dio io le Porsche le odio sono delle bellissime macchine però sinceramente non caspita le Porsche sono toste sono toste vediamo questa selichina dai questa selichina dove sta selichina oh che bella selichina ok dovresti provarla di più è bella stabile oddio oddio bella stabile mi dici ma stai usando qualche assetto perché di stabile nella Porsche c'è trovato nulla neanche quando vai accelerare di stabile però mi fido nel senso è odiosa è odiosa quella è odiosa odiosa proviamo al sazio al sazio al sazio facciamo deep force dai allora visto che questa macchina ce l'ho con nulla lo facciamo a a basso perché sinceramente poi raga non c'ho neanche le gomme la quina frizzante e metti le scarpine che vogliono vederti correre oh oh che bella macchinina raga una bella selica beh certo ma Porsche Porsche raga cioè il Porsche non si scherza a parte proprio essere un'icona e anche un gran bel mezzo ma ho una cattiva a parte che non ho comprato una GR3 che non era niente male forse forse stiamo parlando di quella GR3 adesso te la vado a far vedere te la vado a far vedere dottor Master così vediamo un attimo ciao Maurice Maurizio grandissimo guarda qui che mezzo guarda cosa ho comprato Maurizio guarda la selica che figata assurda la 911 gira eh sì stiamo parlando della stessa macchina allora dai dopo la vado a prendere facciamo facciamo una garetta eh facciamo una garetta per capire se se ci stiamo dentro con quella macchina lì grandissimo Maurizio come stai grande Maurizio grande Maurizio vai che si vola hai ragione hai ragione oh Maurizio poi nel weekend facciamo una gara voglio fare una gara io e Maurizio raga no davvero grande la selica raga che meraviglia no davvero spero che non ti sei fatto male minchia il frontale il frontale è brutta brutta roba l'hai distrutta praticamente vola contro il muro c'è Maurizio amore mio c'è il mitico Charles c'è il Dr. Master c'è tutti i nostri amici si no ma l'acqua frizzantina amore è giù da basso vedi dai che non sei andata giù ti ho visto che non sei andata giù no amore stai anche ridendo non sei l'hai presa dalla cucina perché ti ho visto amore mio guarda ma hai fatto anche uscire dai tata vai a prendere la frizzantina per piacere ci da un brio un brivido un bribidino eh eh ciccia però mi sei davanti allo schermo non è che aiuta eh dove l'hai messa perché non è a sotto la sottoscala dove l'hai messa eh come il camion ho preso in pieno caspita un camion eh amore l'ho messa a Vittorio provo a guardare ma se non è vista la sottoscala caspita ragazzi eh succedono purtroppo bisogna stare mega attenti ragazzi mega attenti andare sempre piano cinture allacciate luce accesa anche di giorno e piano 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 io corro solo in pista su gran turismo poi chiaramente gli incidenti a volte non dipendono da stavo vedendo tuo figlio ciao Davide grande Davide mamma che bella ma maurì bella cazzo portare col camion no va bene l'importante non ti sei fatto male eh sì più che altro stare attenti agli altri che ti vengono addosso ciao Bragali ciao ciao Dottor Master eh sì eh sì ciao Davide grandissimo allora è entrato Davide il mio amico Davide il socio quindi Davidino adesso ti becchi la canzone degli auguri tanti auguri a te tanti auguri a te tanti auguri Davide il socio mio tanti auguri a te eh auguri Davide grande è certo che va pianissimo è una serica non è mica un macchinone bella Davide auguroni amico auguroni 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 dobbiamo farci una mega una mega una mega pizzata prima o poi stiamo vedendo Davide di organizzare quando ci sarà la Games Week a Milano eh quando ci sarà la Games Week a Milano ragazzi bisogna che ci troviamo tutti con le magliette di grande Dottor Master con le magliette di Marco Drums Games tutti in fiera Milano eh andiamo giù con Ven noi dieci quindici venti trenta amici tutti con le magliette di Marco Drums Games spacchiamo spacchiamo la fiera di Milano eh Marco Drums in the world facciamo che tutti conoscono Marco Drums Games non so di chi sia però che cosa gli auguri l'auguri all'amico Davide il nostro amico Davide se parli di quello se altro non so grande Maurizio si si Bragali arriva eh Bragali arriva e corri ragazzi guardate che bella una sedica dai andiamo a comprare un'altra sono carico sono carico stasera sono stanchissimo ma sono mega carico mega carico allora dai c'ho anche un pelino di raffreddore si un pelino di raffreddore allora auguri a Davide si 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 Davide è il canale è il mio amico è da tanto tempo da quando ho iniziato a streamare che lo conosco bravo bravo bravissima persona e grande amico lui stream ma solo da youtube io gli ho detto di fare anche twitch adesso vediamo se riusciamo a convincere dottor Mas sono cose che possono capitare ma non si possono raccontare bravo 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 Marizio è vero meno male che si possono raccontare vuol dire che alla fine se si spacca la macchina chi se ne frega giusto raga grande Davide oh parlavamo di porsche e compriamo 142.500 ragazzi non so se state vedendo con la disinvoltura che compra 150.000 euro di macchine Marco Drums ma dove lo trovate noi youtuber che scialla i soldi così amici miei e non puoi fartela dare immediato ecco qui la Bragali ragazzi ecco che arriva Carla ok salutali lives c'è mitico Davide ho cantato anche la canzoncina è il suo compleanno oh Davide sì 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 tanti auguri a te tanti auguri a te tanti auguri a Davide tanti auguri a te vero però sono rimasto tipo due mesi che camminavo con terrore mamma mia vada con la Ferrari ma non riesco più a trovarla aspita quella macchina lì dici eh mh eh al sazio al sazio col porsche al sazio col porsche la torta la torta la torta Davide stiamo dicendo ai ragazzi che poi sicuramente ci vedremo Morris sta giocando sto guardando tuo figlio Maurizio e sta giocando con i suoi amici domani gioca con noi però eh no 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 eh visto era di di Maurizio oi 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 parliamo di porsche eccole qua qui cominciamo a andare raga beh chiaramente gomme da concessionario eh ai 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 raga ai 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 porsche e marco drams games non va tanto d'accordo non va d'accordo mamma mia si proprio la mia no in Giappone non ce l'ho prodotto ma non l'ho fatto più mamma mia Maurizio oh perché ha fatto sta cosa si è messa a girare senza vedi il problema delle porsche mamma mia sono difficili eh si adesso proviamo la GR3 guarda guarda da drift drift driftiamolo che poi quando devo fare drift raga è un bordello fare il drift e infatti guarda 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 come ti prendo la curvettina da drift e ti butto giverili mamma mia ragazzi vabbè dai io le voglio provare tutte le macchine quando le compro però non è detto che poi le uso vabbè allora prima di tutto ogni auto che si prende è la Ferrari dopo dopo prendiamo la Ferrari prendo la Ferrari e giro e faccio un paio di giri a Monza per il tuo compleanno dai dai adesso prendiamo la Ferrari ci sta ci sta dopo gli faccio vedere al mitico dottor Max si ma vabbè ma è una cosa incredibile cioè a 100 all'ora ma può fare una roba del genere sta macchina si si è arrivato qui alla fine si ho salutato comunque ha girato a Monza e poi una pista che pensavo fosse americano ma non lo è americano non so non frena non frena ma che ma che cos'è questa roba ma che cos'è questa roba non è una macchina vabbè vediamo da dentro dai eh si adesso mi ho messo il ciladro in casa si sono sul muro è un contorno di tutte le pareti figata perché le avevo prese a mio figlio tutte nelle sue camere sia di Vittorio che Leonardo tutte nelle loro camere è una figata a Trial Mountain ah Trial Mountain bella qua la pista bella sì Trial Mountain è quella che faccio tutti i giorni eh sì eh ma vedi noi abbiamo le nostre facce lì e io non vedo la la pista come è fatta ma vabbè ma vabbè ma dai ma non è possibile madonna ma non è possibile che c'è sto il dislivellino e sta bella porsettina fa quello che vuole bella Trial Mountain adesso andiamo a fare ma dai ma 100 all'ora ma quanto devo andare ma forse sono troppo abituato alle GR3 amici miei che le GR3 stanno in pista a parte che questa c'ha le gomme da concessionario ma queste 100 all'ora ma stiamo scherzando nono con una con una Porsche 911 c'ho speso anche 100.000 euro ma devo andare a 70 all'ora dietro una Civic ma dai porsche ma mi stai deludendo va 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 guarda 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 va va che va eh mo va 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 guarda tac tac ma qua lì macchina là mi stai 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 te ne compro anche una solo la tuta per te queste sono 400.000 se ti vuoi la tua è la mia l'ora andiamo in retromarcia dai stavo in retromarcia bellissimo magari vado più forte in retromarcia no dai c'è anche il mattonello si c'è il mattonello è un mitico prima c'era c'è anche il gioco gioco ma dai ma sono 60 all'ora ma come fa sta macchina a non tenere 60 all'ora guarda non frena non frena non frena oh per fortuna è finita l'ho fatta tutta la fiancata tutte le fiancate tutte le fiancate che macchina vediamoci un pezzettino di replay vedremo per l'ultima volta questa Porsche a parte che in teoria niente una mandorla a parte che con le gomme da concessionario perché è bellissima è bellissima per l'ultima volta questa è bellissima 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 allora andiamo a fare faccio io una ferrarina per il mitico compleanno di davide allora davide ti faccio con questa dai guarda che cosa si porta marco trans la ferrarina effettivamente questo fa schifo no perché non va niente prendiamole una un po' più performante dai la fxx guarda qua mamma mia fxx a monza amico mio no 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 eccoci qua ciao amici di twitch e tra un po' corre la bragali rimanete eh corre la lei lei nel amore mio ecco qua per il compleanno di davidino gli faccio la galettina con la fxx Vittoria per te Davide Ok Con la stessa Ferrari Senti la musica Ciao Carla Ciao Ciao Sì Gioco gioco Domani siamo su COD Con Morris Ho già avuto l'ok Quindi domani sera ti aspetto Ok 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 grande sharder Ai 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 Ti faccio sapere Sì Ok Dopo 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 Sette marce Ai 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 caramba Ai 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 caramba Mi ricordo Non mi ricordo mai che queste qua non sono GR3 No Non sapevo neanche dei providi di Morris Tu hai saputo qualcosa? NURBURGERINO Sì No Credo che sia andato a lavorare Ok grande sharder Sì Lo so amore Ho già parlato con lui Uh Oh Così si fa Allora perché la FXX è una macchina da paura Però Non so neanche se gli ho comprato le gomme morbide Ragazzi Ah Oggi pome Le parole erano foto vecchie Perché io non le ho viste A parte che ho lavorato tutto il giorno Poco da vedere quando uno lavora Dedico la vittoria Sulla FXX A il mitico Davide Ai tanti auguri Davide Ciao Kiri Ciao amico mio Oh che bello che sei arrivato Ciao ciao Kiri Tutto bene? Chi c'è? C'è il mitico Davide che fa gli anni oggi C'è gioco gioco Ah sul suo profilo Tu dici di Instagram? C'è la Bragali C'è Scharder Prima c'era Pierpaolo Poi però mi sa che È sparito Terrarine Sono toste Devi proprio tenerle lì Devi proprio tenerle lì C'è Dottor Master Dottor Master Ci sei ancora? Proviamo Questa l'ho fatta per Ok Perfetto Grande 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 Dottor Master Andiamo a provare La La Eh 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 sì Beh non tutto tu Su Instagram Ma non sul suo profilo Ah Tu sai cose che neanche Che neanche io Noi poveri mortali possiamo sapere Esatto amore mio Hai ragione Hai ragione Questa mi piaccia Tu gioco Sai cose incredibili Però Ti devo ringraziare Perché quando è entrata la prima volta Grandissima Mortis Che sono fa Maurizio Mi hai detto tu E hai dato una mano Per Per avere l'amicizia Quindi grazie 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 Gioco gioco Sai un minuto Sai un minuto Gioco gioco Troppo curioso Ti prego Chiedi Ormai ho capito Che siete i miei Quello yes Quello yes Ho modificato Ho modificato Che cosa Grandissimi comunque Hanno usato le icone Quelle strafichissime Auguri Davide Bellissimo Ma voi le vedete ragazzi Le nuove icone Che ho messo Per chi fa l'abbonamento Tutti Ragazzi fate l'abbonamento A Marco Drums Games Amici Fate l'abbonamento A quello gratis Di Twitch O anche quello a pagamento Fate l'abbonamento A tutti ragazzi Madonna amore mio Quanta tosse che hai L'abbonamento A quello gratis di Twitch Non so Lo dicono tutti Io credo che ci sia Grande Kiri Tra un po' corre Carla Guarda qui amico mio Da Giulio e Lord Spero che arrivano Io l'ho scritto nel gruppo Allora Se non viene Cosa facciamo Gli amici vogliono vedere Che giocare Tu giochi adesso The show must go on Oh che bella uscita Ok Bella lì FXX Ragazzi Tanta Tanta roba Eh Gli ho messo la mano Ah Ecco cos'è modificato Grande Madonna ragazzi Ma quanto è bella Lì FXX Guardate che spettacolo Che spettacolo Vabbè Allora Andiamo a prendere La Andiamo a prendere la Quelle nuove amore Tu Eh Bella Come fai a prenderle Eh Che ne so Io l'avrò fatto Leonardo Vedete chiamare Leo No adesso non sta giocando con i suoi amici Non può Allora Allora Ho comprato questa Bugatti Ragazzi Guardate che Bugatti che ho preso Ah tra l'altro Non l'ha neanche usata L'ho comprata e basta Aspetta aspetta Andiamo a provare un attimo il Bugattino GR3 Vai che magari ti trovi un'altra macchina bella per il Durburring Stai calmissimo Spray Oe Giu Giu Grandissima Ciao Domani c'è il mitico Morris Stasera il mitico Marco Drums e la mitica Carla Adesso Carla corre Fa il Durburring Il Durburringerino Con la sua Guarda guarda La Bugattina Davide Ti sei dentro Ti darei un tempo di auto Eh sì Gisù oggi è il compleanno di Davide È il compleanno di Davide Gisù Non è niente male Sì 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 No adesso Domani Warzone Con Morris Pierpaolo E forse E forse Zubituzzo TV Un altro amico Che avevo conosciuto ieri Leggiamo cosa dicono Davide Ok Uh come viaggia Uh come tiene Eh beh sì Davidino Eh beh sì Davidino Fra un po' Mi fa Sì Eh sì Eh sì Kiri Per leggere Vi sono dato Scusatemi Amici Corridori Questa è Della vintage Hai ragione Hai ragione Kiri Hai ragione Kiri Questa è la Bugatti Ragazzi eh Tanta roba devo dire Frena davvero Forte Ah ma me l'ha messa dentro Insieme a quelle A quelle macchine lì E io devo andare a comprare Una di quelle E poi speriamo Le Perché ha bucato Il gatto Chi ha bucato il gatto Chi ha bucato il gatto Kiri Ma come si fa a bucare un gatto Le gomme Ah la Bugatti Eh sì Ci sta La Bugattina La Bugatti Le francese La Bugattina La Bugattina Sembra italiana Eh orca Hai visto che balordo No sembra No sembra Un Ubito No è tedesca Ma è cos'è Quanto è brutta Beh allora diciamo che questo grandissimo maxi schermo Serve più che altro per Per guardare Le partite Allora ho perso un po' di tempo E non sono arrivato prima Però secondo me a rifarla No no dico proprio l'auto Sì sì Beh esteticamente esternamente è figa Guarda Dentro effettivamente non è niente di che Vediamo solo un pelino E poi adesso corre Carla Eccoli tu amore mio Che devo andare a recuperare quest'acqua frizzante ragazzi Eh no 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 Non io la giudiamo No 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 tu devi stare muta Tu adesso devi fare il nurburgerino Io devo andare a prendere l'acqua frizzante Assolutamente Chi fa i sondaggi Nessuno Un carro armato è più bello a confronto Ma no dai È bella Con un carro armato è più bello È bella Ma a me piace Non ti piace Dr. Master Dai figa Dai Carla arriva prima al nurburgerino Come no Su podio non su pioglio Sono passato da Morris Cavolo quante piedi che sta facendo il singolo Eh Gioco gioco Morris è forte quando gioca Morris Quando gioca con noi Giochiamo per divertirci amici miei Come vi dico sempre tutte le volte Quando Morris gli amici vengono da noi Nelle live di Marco Dranz Lo facciamo per divertimento Mega divertimento Qua è bella Mi piace Da fuori eh Da dentro o no Sì Eh C'è quello schermo lì che non ho capito perché è così dorso Però Sì effettivamente dentro non mi ha giusto Perché Te nemmeno parlo anche meglio Ah ah Che mi schifano Eh beh Eh beh Warzone è tanta roba Punto di domanda Odio Sul podio Ok raga Buone le mandorle Allora Sì No Allora Pronostico amici Così gioca Carla Ok Andiamo a comprare la new beetle Allora Europa Volkswagen Si è trovata bene Si è trovata bene con la beetle E di dare il compro Anche questo non è niente male Vuoi magari concorrere con questa Come si è trovata bene con la beetle Eh non lo so Sì Ma però non verano male Allora Aspetta che Ah 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 Eh lo so sto vedendo Eh cosa facciamo 5 minuti 2 minuti 3 minuti dai Eh ma devo Devo Iniziare a Correre No Eh no Prima si fa Ok E i trofei di cossa Allora ragazzi Fate il pronostico Fate il pronostico ragazzi Confermate il pronostico Ok Allora gli ho comprato la macchina Carla Pronostico Pronostico ragazzi Dai forza Forza Fammi scommettere Perché non lo so Si ce l'avevo già Ma ne prendo una A mia moglie Qua questa è la Kinder Allora secondo me Guarda mo Io arriverei qui Fra i primi tre Guarda qui c'è Quella della Coca Cola Della Kinder Della Milka Del cioccolato Eh ti sto prendendo La livraia Per siamo Semen up Puoi aspettare un attimo Ti sto scommettendo Su Bragali Quanto dovrei mai scommettere Eh ho tanti scherzi Posso mettere un botto di scherzi E posso mettere anche di no Tipo di recuperare i soldi Bello Eh No dai Allora scommetto un botto C'è questa rosa Guarda E non ce n'è tante qua Questa Oppure questa Questa Chupa Chups Ah buono Eh non c'è più un altro Ma non l'ha fatta qua Ciao Ciao Vedi che solo Beetle in garage Eh sì Quello che vuoi tu amore mio La macchina è tua La livra è tua Vedere come sta Quello che vuoi tu Questa è la macchina di Bragali Di Bragali L'ho comprato la macchina per lei Piace No a parte che è il colore tipo della Un'altra Come due non si può avere amico io Ma che stai di Due non si può avere E due Una o due Della stessa macchina Questa è sua E l'altra è mia Se no tutte le volte Devo andare a Eh ma poi bisogna Settare giù Vai giù Mi piace quella Quella rilla Questa Milka Sì vai che cioccolato Che è buona cioccolato Così è sua E Ognuno ha la sua Ti piace? Sì mi piace C'è la C'è la mochina Dai Mi piace Vai che in quella Ci sta un botto Faccio sciogliere tutto il cioccolato Ma i trofei di che? Chi? Ma che gioco? Gran Turismo Sette? Sì Certo certo Mancano Uno che bisogna comprare le macchine Quindi bisogna aspettare che escano Patenti Certi solo fare delle foto Mancano una decina 50 qualcosa credo In totale Quanti sono in totale? 50 qualcosa 54 Non ricordo neanche più Allora tu vuoi il turbo a bassa A medi o alti regimi? A alti quando vai a manetta Se no a medi e ti tira di più Ti tira di più le macce Nelle basse A bassi giri Quando Lì ti tira Invece alti è quando No a bassi Ok Sospensione forte Sì no c'è tutto Ormai in questa macchina qua Ti danno Le gomme dure Le morbide Cambio personalizzato Cosa è? Freno a mano? Per i drift? Dai mettila Ma non è una macchina da drift Non te lo comprono neanche morta Mettila quella Ma hai già finito Di fare la mia cosa? Eh Quanto devo fare? Non c'è anche niente Da la mia cosa No Che freni? C'è già tutto ma Di serie Nel GR3 Allora Carlina a Nürburgring Vuoi fare un attimo prima Vuoi far prima un attimo Monza Così cominci a scaldarti Che la conosci Vado a prendere la quina frizzante Poi ti aiuto con il Nürburgring Dai Dai Cos'era quella di fianco? Niente Non puoi viaggiare con l'acqua Già Già non stai in strada Perché non ti faccio viaggiare con l'acqua? Perché non ti faccio viaggiare con l'acqua Che sarebbe un massacro Un massacro unico Solo fuori Eh Ma mi fai provare con l'acqua Ti fai provare tutto Eh amore Non stai in strada Tata Non stai in strada Qua che hai in strada E c'è vinceva con il pioveva Tutto bagnato Vero? Come faccio partire? Con la X Non mi ricordo neanche le curve Com'era Già proviamo Proviamo la mia macchina Dai amore C'è Marco Amore C'è amore Ma non è automatico le marce Ehi E non riesco a cambiarle Oh dai Non riesco a cambiarle C'è ma ti pare C'è ma quale marce Vai in impostazione Allora aspetta Tasto optional Aspetta E dove? No C'è cosa ho fatto? Allora impostazione E qua? C'è dai ma Sì Ok Impostazione aiuti Controller Correzioni temporanee E qua? Aiuti Ok Sì aiuti Meno male che c'è Sol Cambio Cambio Automatico Grazie Sol Perché Basta Cerchio Continua Cerchio Cerchio Continua Grazie Sol C'è ma che roba Non lo so Le chiavi della mia macchina Saranno nella mia borsa Sì c'è c'è Guarda che c'è Poi ascolta Perché ti devo aiutare A trovare le chiavi della macchina Non mi hanno neanche aiutato A mettere il cambio automatico Cercateli da sola Con usare C'è un pezzo C'è un pezzo Un pezzo Un pezzo incredibile ma perché mi devi abbandonare con un mistero qua a giocare e dopo ti prende sta acqua frisante non lo prendi perché non lo prendi ma la prima non me lo riprenda si, mi ha fatto andare sul prato prenda tutta amore, ciao Olivia, cosa vuoi? l'ho fatta bene questa, c'è abbastanza Zani guarda sta correndo la mamma guarda come portarti a scuola amore quando siamo in ritardo facca buona, guarda qua che roba no, non faccio così con i miei non sa che stavo scuola, non sa se stavo scuola, non sa se stavo sbagliato non staat ci niin quando si stavo scuola amore pensavo di essermi imbarcato invece così vibra un po' meno finito hai trovato? ok allora a posto vieni qua non sono saltate fuori le chiavi e l'acqua è frizzante quindi non va bene niente ragazzi allora un burguerino come è andato? bravo ok grande davide eh sì ogni mese si vieni non è che faccio un mese non è che faccio un mese non è che faccio un mese che colore vieni ancora mezzo ci dà un po' d'acqua non ho fatto niente corriamo corriamo non c'è niente è andato è andato è andato è andato vai allora un burguerino facciamo mezzogiorno no pomeriggio pomeriggio mi piace il sito grande davide grazie amico mio sì c'era a shader che voleva fare con me che era la che aspettava vai 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 il nurburguerino oh amanezza ragazzi girapata dai gas bene un po' ma qua sei capace non c'è bisogno di me ti dico solo quando arrivano quelle toste eh sei brava che è carla dai 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 vai pena pena non dare gas rientra teniamo vabbè si deve riscaldare ragazzi molla bravissima molla bravissima bravissima una bambino buona Bolla anche, questo è proprio di frenare, frenare, vedi? Tu muotta, tu! La faccia che stai frenando, mo? È una faccia! Ciao amici! Lei è troppo su, su mi! È vero, è vero, è vero! Certo, la ricominciamo, vai, se no la ricominci male! Finiscila! Molla, molla! Non lo vediamo, molla! Frena! Frena, frena! Vai! Parzializza! Bellissima! Vai! Dai che tra un po' ragazzi i Bragali useranno le marce! Eh, qui ti aiuta di più, eh! Io, mo, non ci vuole, dai che poi li risparerai! Attenzione, mo! Fa che c'è la foglia di superarli, ma... Eh! Sì! Non tutto! Vedi la curva, quando ti porta fuori... Eh, no, queste cose non devi farle! Ma perché vuoi togliarli fuori? Eh, no! Eh, mamma mia! Mentre fai le gare, no! Se ho un pezzo dritto puoi cambiare! No, no, no! Frena! Parzializza! Vai! Attenzione, non andai a dottor! Scusa, vabbè, è morto! Scusa, vabbè, è morto! Ah, sì! Poveraccio, ho fatto una brutta fine! No, no! Non è che devi... Sono otto minuti, ma tutte le volte mi fai questa domanda! Quando arrivi al... Quando arrivi al... Prima parabolica, sei a mezza pista... Renault RS, è bella quella Renault lì! Non so se ce l'ha quella Renault lì! La voglio! Stato possiamo comprarci la Renault! Scusa! Prende un po'! Bravissima! Bravissima, Bragali! Grande! Verrai che ti bruci anche quell'alto! ti devi frenare un po', frena un po', frena, parzializza, non dà il gas, vai, attenta qua, qui è la prima parabolica, vai vai vai, accelera però, io devo solo stare attenta, non devi frenare molto, un dritto, ok, già di passano qua, dai gas, e chi ne è dentro la parabolica, quindi puoi anche dar gas, non troppo ma, senta me, non l'hai vista? Eh, ho visto, amore tu non devi vedere la pista, tu vuoi correre di pomeriggio che non si vede in cazzo la pista, perché c'è il sole e l'ombra, e mo tu non ascolti i consigli miei, amore è così, non è vero, è così, tu vuoi farla di pomeriggio e c'è l'ombra, e non vedi le curve, hai ragione Sharder, grandissima, vuol correre con l'acqua, vuol correre, porca miseria, ma non è una pigata, sei sempre fuori, sei sempre fuori, non ne fai una dritta, l'acqua è difficilissima anche per noi che corriamo, prena prima, non tirarle così, prena, lo vedi che già è una curva, adesso cederi, adesso qual'altra, la vedi già che devi frenare, che è una curva bella tosta, e adesso parzializza, cedera, brava, ed è già curva da frenare, si vede, ok, vai, parzializza, vai, dentro tutta, attenta, attenta, parzializza, prena, prena, vuoi correre, vuoi correre, vuoi correre, giovane, devi stare molto attento, che ti banna la vita, ti banna e ti buca le gomme, attenta, vai, scelera, 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 parzializzare, è solo sulla curva, dopo di dargà, eh amore, ti sto spiegando come fare, prena, vai, non puoi cazzeggiare, prena, eh amore, non lo becchi perché stai sbagliando, fai 8-7, 8-2, andiamo a faccio sbagli, e adesso va a 9, 9-3, eh, ah 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 ah, prena, non devi avere premura di prenderlo, di solo correre bene, se corri bene lo prendi, perché gli dai un secondo, ok, fai, adesso è, è là, è un po' tardi, è un po' tardi, dipende dalla macchina, se viaggia tanto, c'hai in 3-4 curve, beh, lo stai prendendo, 4-6, 4-3, 4-2, 4-1, sinistra, veloce, adesso c'è la sinistra veloce, a sinistra veloce, amore, oh, sinistra veloce, sinistra pieno, veloce, sinistra veloce, cosa non capisci, amore, sinistra che devi frenare un po', e poi c'è il destra, ok, frena, una bottiglia alla gara, frena, 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 ok, vai, destra, frena, eh, amore, devi parzializzare e frenare, frena, vai, vai, non così, eh, amore, è ripassato, brava, come si fa, solo uno l'ha ammazzato, bella lì, raga, eh, primo, eh, primo, caspita, vedi, che c'è la tua, la tua, la tua macchinina nel nurburguerino, grande, Carla, allora, abbiamo vinto il pronostico, posso riprendermi? Eh, sì, eh, non lo so, Il pronostico è sì, grande Davide nessuno ha votato no oh mi adoro oh ma siete degli stronzi a me scrivete che non arrivo sul podio amiconi amiconi amiconite che te 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 a tutti bene hanno vinto tutti bene hai visto eh Norbury che è la tua pista vuoi fare vuoi fare anche cosa la sarte dove fanno la 24 ore di reman ti facciamo farla sante la sarte quella dove fanno la 24 ore di reman la pista la sarte 24 ore si amore mi stai qua non vai al lavoro e le mani la sarte e due giri perché è più corta del burghieri non si metteva la stessa adesso te lo dico io destra veloce poi c'è un sinistra che devi frenare destra veloce si frena sinistra c'è una s sinistra destra vabbè vabbè fa niente si si vengono da solo attenta attenta si ma parzializza sinistra destra veloce ma non troppo a sinistra devi frenare un pelino per un pelino vai bravissima è pista quindi c'è macchina attenzione macchina destra destra non troppo è un frenare puntare temo la sarte è un frenare puntare qui è pieno è si è pieno brava sì perché la curva è tastica allora adesso è vera destra sinistra parzializza parzializza non è che parzializza è un giochino di pinball eh parzializza di solo tirare sul pelino non è non è piùpack otro caha ha ha ha, ciao amici di switch parzializza fai inscifato il piedino avvensima adesso c'è fai sulla destra perché è è un è una sinistra destra ok di una frusta di un'altra di un'altra sinistra un pelino prima frena 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 Soldato a un destra, vai, tutto gas, va bene la prima volta ragà eh, la prima volta sbagliano tutti, sei già bravissimo amore mio, vai tranquilla, basta carini, attenta che sei sull'erbetta, allora adesso di frenare un pelo, vai, frena tutto, frena tutto, frena tutto, 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 è da prima, ok frena, parzializza, tutta, ragà non la tratto male, è che bisogna insegnare le cose così, ma vai a cagare, non ti dico niente, dai fatela te adesso, vediamo, è così a destra piena, ce l'ha in mezzo il tracciato comunque, è che ve lo è grosso anche, adesso molla un po', non frenare, molla un po', frena, frena, vabbè dai, frena, frena e frena, non non c'è, non c'è tanto, non è parzializza, frena, 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 ok vai, vieno tutta, da rettiline, pastiglie, gomme, tizzi, benzina, ma che riprovi, vai a letto, chard, vai, pensa a guidare, mo', vai, allora adesso va bene, dai, va bene, va bene, ok, vai Carla, vai Carla, vai, 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 fai tutto tu, vai amore, Carla, no, no, che cattivo eh, non sono cattivo, eh, è così che si fa imparare, c'è, eccolo qua, il risultato, tedi, bravi, bravi ragazzi, tirate così, eh, fa male le braccia, eh, fa male le braccia, dai, è nato il giro uguale, è fatto, bravissimo, 4 minuti e 28, dai, dai, impegnati, non ti dico niente, è così, bravissima, ciao Linaus, grandissimo amico, come stai, sta correndo la mitica Bragali, dai, sinistra, frena un po', parzializza, vai, gas, 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 gas pieno, gas pieno, no, boh, non ti dico niente, non va bene, cazzo, guarda, guarda, c'è in scuola eh sì, vai, già sta girando meglio di te, esatto, dottor Master, quello è vero, quello è vero, bravissima, bene, bene, voi come state, grazie, grazie Linaus, tutto bene, sta correndo dalla mitica Bragali, la mitica Carla, tutto bene, tutto bene, tutto bene, ti stavo facendo imparare come si fa la pista, ma i ragazzi dicono che la sgrido, allora si fa tutto lei, esatto, vedi, hai visto, hai visto che bello, dai, facciamo così, eh, ma non, non deve imparare così, so, deve fare così, così, poi viaggia da paura, di mettere d'aiuto, c'è un aspetto di roba che viene fuori rosso sulla strada dove devi frenare, ma così non è neanche bello, vedi, si sta abituando, non conosce la pista, eh, sinistra, 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 gira, 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 destra, troppo gas, non troppo gas, non troppo gas, vai, dentro tutta sinistra, ciao amici di Twitch, mi raccomando, scrivete nella chat che vi salutiamo, grandi, sta correndo Bragali, eh, ha vinto il Nürburgring, il Nürburgrerino, e sta vincendo anche all'Assarté, amici miei, all'Assarté, è certo che si friviamo, eh, attenzione, la prima si può fare piena e poi di frenare prima, eh, frena, 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 si arriva a fuoco? Allora, parti parano, parti parano, parti parano, hai fatto 4.28 ma c'era la partenza, quindi dovessi fare molto meglio, 4.28 ma. a sinistra, se c'è la più qua destra, adesso, allora, la prima non devi frenare troppo, parzializza, la seconda freni, frena, brava, fai, bravissima, brava, e destra, no, no, frena, 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 di brutto, dove l'hai vista aperta? Ma la faccia, ma, ma dove l'hai vista aperta, no, 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 non c'è niente da aperto qua, vai, gas, ah, 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 ah di fare quello che dico io, se no segui lui e non ti dico niente io. Adesso è il mio, che si chiama di tuana a frenare. Non devo frenare. Sì, sì, sì. Allora, devi fare anche il tutto. Frena. Vero? Frena. Accelera, accelera, ragazzi. Questo dico come si fa le piste, non è che quello che ti si è compito di un fatto e forza. Se no, se vai online o vai a livello difficile, non devi inserire. Frena, 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 frena. Adesso c'è un'altra S. Frena, frena. Vai. Come fai? Bravissima. Grande, amore mio, bravo. Brava. Dai, che adesso ti riposo. Grazie. Grazie, ragazzi, per il supporto. Ha, 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 ha. NURBURGARINO. Esatto. Esatto. Devi esercitare ancora un po'. Ma sei già un buon punto, devo dire. Qui, vabbè, quindi si è andato addosso, ma sono un po' così di gara. Sai che se devi giocare, devi giocare a tutte le piste, no? Ma non è solo una. Ma io voglio giocare quella, perché vuole fare poi la gara con lui, con questa. Sì. NURBURGARINO. Dai, l'ultimo, poi vi lascio. Allora, Kade. Lasciamo drums. Vai con soleggiato. Sì, vai con lui. La stoffa da pilota già la tiene. È vero, hai ragione, ma tu devi vedere come fa la strada quando porta i figli a scuola. No, non va mai fuori, ma rally, eh, rally, raga. Vai. Vedi? Sì. Lasciamola concentrare, vici miei. Intanto voi, se vuoi, scrivete a me. Non esagerare. Sì, sì. Perché tanto li prendi e qui è il punto lento. E' il punto lento, ma. Se esageri troppo, perdi solo in posizione vasta. È lento, fin di frena. Ciao, vici di Twitch, benvenuti ragazzi. Concentra, Timo. Frena. Eh, basta che me lo spacchi. Eh, hai fatto un disastro. Amore, c'è famiglia di farla. Un disastro proprio. Devi concentrarti. Frena. Non serve andare così veloce. Che male che fa. Non serve andare così veloce, amo. Ma come andano veloce? Eh sì. Vuoi superarli subito, ma... Perché si parte da qui, amore mio. Sempre partito da lì. Ciao, ciao. Fa partire sempre da questa posizione qua. Un po' in mezzo. Così ci fa, brava. Con calma. Vediamo. Perché non l'hai vista quella curva lì? Non la vedi? Non l'hai vista? Ma che non mi dici non la vedi? No, sono cieca. Ah, ma l'hai mandato dritta, po'? Scusa, io ti metto di fianco di fianco. Ma non la c'entra di fianco, c'è la curva lì. Caspita, mamma mia, non mi stai muovendo. Caspita, caspita. E io non so. Vedi tu? Mi buttano i voli tutti? No, non so. La ottava, la dodicesima. Vabbè. Non so. Non so, ma. Non so. Non so. Ok, ci sto. Ci stiamo, ragazzi, vero? Li riprende tutti. Vai. L'altro fuori. Amo, concentrati, sei nel prato. Lei buttato fuori un altro. Eh, no, sicuramente. Fidati, Shard. Fidati. Fidati. Pen, amore, concentrati, amore. In centro. Sì, amore, ma non sei capace di guidare la Ureca? ma non sono capace neanche io di guidare la huracan perché ti piace la huracan ma non sarà di strada quella macchina io mi dissocio non lo so vai corriamo sta appena detto che si deve esercitare il nurburgring chi ha detto che non ti fai quale giorno insieme il charter brava amore mio brava ciao amici di twitch benvenuti ragazzi andy aspetta 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 un po' distratta un po' distratta con la sante la mitica carlina sei distratta vabbè ragazzi mi lasciate solo il nurburgring se mi volete vedere il nurburgring se non lo gioca più se sei stata più brava la sante comunque vabbè allora non è vero va bene perché sei stata più brava vai frena eh ma l'hai persa all'inizio già da due giri vabbè sono vicino eh se non sbagli più che stai attenta li prendi subito ma poi arriva il mega rettilineozzo se non sei vicino al primo come hai fatto prima vabbè a parte che è l'altro così ti è attaccato bravo ma è così che ti è attaccato ma è così che ti fa ma è così che ti fa e ti fa ma è così che ti fa e tu ma è così che ti fa e tu facci così anche con la mia madre ciao ma non dirmi te cazzate perché eeeh E poi ci credo che si scassa. Ciao, vici, Twitch, benvenuti, ragazzi. Ecco, finito. O li butti fuori, aspetti, tra un po', tra un po' arriverà un punto che... Ah, questa è l'AMG, l'AMG l'ho presa? Anche la BMW M6, ragazzi, l'ho compratta. In realtà ho compratto quasi tutte le... Ecco, mettiamo fuori tutti, inchiariamoci, così sei ultima, bravissima. E vai che c'è la Toyotina F... Eccola lì la voglio, la Toyota del 2018. Non lo so se ce l'ho, ragazzi, ma è una... GT3. Toyota FT1 VGT, CT3. Non lo so, perché ho visto... che oggi era un tipo di pubblicità. Non so se è raggiunta. Toyota FT1 VGT. Ehm, stai canando tutto, ma... Eh, ma frena, frena prima. Vai meno, vai meno veloce. Vai, accelera qua. Frena. Accelera, parzializza, accelera tutto. Sinistra. Destra devi frenare. Ok, vai, sinistra, parzializza. Accelera, destra, parzializza. Ciao amici di Twitch, benvenuti, ragazzi. Frena adesso in alto, frena adesso. Vai, no amo, non è da prima. Frenucchia, non so come dirlo. Adesso c'è la prima. Variante, no, non è ancora il variante, mamma mia. Come ti fai? Vai, 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 destra, frena. Adesso devi frenare. Accelera, parzializza, parzializza, vai. Sinistra, devi frenare. Ciao amici di Twitch. Sessione. Accelizza, destra. Vai tutta a sinistra. Adesso là rispondo di frenare. Saltato. Porca, non ci voleva. Che disastro. Tutto gas, eh? Eh, sì, tutto gas. Frena. C'hai tutto gas. Bolla. Ciao amici, Twitch? Ah, io ho sentito più di Twitch. Eh, amore, io faccio tre ore. Allora, parzializza, 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 parzializza. No, non devi dar gas, lo sai. Ok, adesso vai. Prena. Prena. Ma è stupido. Beh, dai, finiamolo, dai. Oh, amore, è mezz'ora che sei fuori strada, dai, non ti ho fatto partire io, su, amore. Ok, dai. Ok. Non ci siamo propri. 19 euro, non me lo dà. Vai, va. Tieni, amore. Vieni, 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 vieni. Comunque... No, ho sbagliato il sacchetto, sono uscite tutte le mandorle. Adesso mangi. Allora, ragazzi, vediamo un attimo. Dai. Caspita, sono uscite tutte le mandorle. Non c'è niente, non c'è niente. Allora. Io volevo... comprare... L'ultima macchina usata. Oh, non sono male anche le mandorle. Eh, devi esercitarsi di più, amore. Oppure fai anche il farming, eh? Sì, ma il farming è con la pista là che... Guarda, guarda... La strada è anche senza guarnere. Oh, ragazzi, ci sono uscite tutte le mandorle. Un secondo. Eh, devono aspettare. Ok, l'ho recuperato tutte le mandorle. No, una no. Me la mangio questa qua. Allora. Andiamo... Uh! La Fair Lady, vabbè, non ce l'ha... Non ce l'ha... Non la proviamo niente. Però, però, però... La Kunta, sì, amici miei. Eh... La Lamborghini Kunta, sì, che ce la proviamo. Cosa ne dite? Ok, le abbiamo comprate tutte, eh? Ok. Io stavo vedendo... La Toyota era, amici. No, ma ce l'ho. No, ce l'ho. Questa. Questa. Ma il telefono dov'è? Non mi vuoi scolarmi tu? Eh? Questa è tutto sopra, il mio telefono? No. No. Come l'ho? E dove è? Non so. Come l'ho? Non lo so, buona. E te mi ero, te. Allora, io comprarai questa. Comunque è gratis. Eh, amore, per il supporto, per il supporto. Ok. Allora. Diciamo che queste le ho prese tutte. Andiamo a provare. Il mio si è altro, mi dà come sezione ancora regalare. Quindi il mio lo penso di essere ancora, no? Non so, tu sei premium. No. Mio. Mio non è premium. Allora. Allora. Dai, dai, dai. Un milione successo, no ragazzi miei. ok dai dai andiamo a correre un attimo perché sennò qua si fanno passare non c'è già detto tre volte allora lo proviamo approviamo su vediamo un attimo un attimo possiamo provare qua ok questo deve essere giù ma deve essere dietro sulla schiena forse ti fa male la supra mi ha fatto non la vabbè proviamo com'è la supra racing concept ciao amici di twist benvenuti ragazzi vedi schiacci option impostazioni aiuti manuale ooo così si corre amici miei niente male oi va bene amore quando impari il murmuring fai tutte le volte che giochiamo ciao amici di twitch benvenuti ragazzi come state amici miei mi raccomando se siete iscritti grazie se non siete iscritti grande se ne vuoi iscrivetevi al canale amici domani 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 dom oh questa toyota è stabilissima raga voglio provarla a nurburying bella 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 ma è una gr3 è una gr3 questa concept bella mi piace proviamo la nurburgrino aspetta però perché se hanno gomme perché questa l'ho comprata adesso usciamo un secondo tanto ci vuole un one second please raga è talmente veloce i caricamenti della play che tanta roba grande sony boy grandissimo diciamo che ah vedi si si assolutamente assolutamente grande assolutamente amore mio ha vinto la mamma è bravissima l'urburying è la sua pista proprio brava davvero è stata davvero brava si proviamo a fare nurburying poi ragazzi sono già le 11 e noi ci vediamo domani sera allora proviamo la cuntac dopo è che ho comprato adesso facciamo nurburgrino che ha fatto la mitica bragali che comunque piace tantissimo anche a me voglio provare questa gr supra racing concert del 2018 che secondo me spacca raga ciao ciao sharder a domani amico io buonanotte anch'io adesso faccio nurburgrino provo la cuntac e si va a nanna ciao amico mio ciao amico 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 Grazie a tutti. Caspita ragazzi, non so neanche dove posso superarlo sta 4C. Allora, devo superarti sul cordolo. Bel rumorino grezzo, il motorino di questa Toyota. Ah, scemota, scemota, ma cosa mi combina la McLaren? Il problema di sta pista ragazzi è anche dove superare le macchine, vedi? Io tendo di superarla all'esterno. All'esterno. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Il problema realistico, reale, è anche dove superare questi cattivoni. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Grazie a tutti. Cazzarolas, cazzarolas. No, non ti incrappettare. No, non ti incrappettare. di piti patti di pus Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma neanche performante. Magari ci facciamo un altro Nürburgring con la Beetle. Un po' con la Porsche, come diceva il Dr. Master. Alla Bragali. Si butta fuori tutti. Si butta fuori tutti. E si arriva a terzo. Quattro. Bella, bella, molto bella. Sta Toyota. Molto bella la Toyotina. Mi ricordo ragazzi le prime volte che facevo un Nürburgring che avevo addirittura timore di farla e paura quasi. E qui bisogna trovare il punto giusto da sorpassare. E non è facile. Allora io volevo provare... Allora io volevo provare... C'è un grande Davide, ti ringrazio. Ci vediamo domani sera che c'è il mitico Morris, il mitico Alessandro e il mitico Pierpaolo e Marco Drums. E magari c'è anche... C'è anche qualche altro amico. Vediamo un attimo di vedere chi viene. Chi viene, chi viene. La concert, ti saluto, ritorno al lavoro. Ciao, ciao Maurizio. Buon lavoro amico mio. Buon lavoro, buon lavoro. Ciao a tutti ragazzi. Un saluto a tutti. Grande, grande Maurizio. Grandissimo. Bella lì, bella lì, bella lì. Allora lui diceva questa. Ciao, ciao. Ciao a tutti ragazzi. Anch'io adesso vado, anch'io adesso vado. Voglio fare solo una piccola prova con il Nürburgring. Perché non so neanche se ho comprato le gomme e tutto della Porsche. Io spero tanto di sì. Perché vi diceva il mitico Dr. Master di usar la Porsche. Che c'è oggi? No, ma la Porsche va via, la Porsche va via. La proviamo un po', eh? cosa s'è oggi? No, ma la Porsche va via. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, sto provando la mitica Porsche, non è la Porsche? Guarda questo, bam, la Porsche, caspita ragazzi, la Porsche è dura, la Porsche è dura, la Porsche è dura. Ma no, ho sbagliato, la Porsche è dura, la Porsche è dura, la Porsche è dura, è dura, 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 dura. Allora, vediamo un attimo, Mousse Prime, dai facciamo una gareta con la Kunta che ho comprato stasera, bellissima. Ok, autodomine Monsa. Ok. Ok, visto che non ho gomme né niente. Ok, la Kunta non frena niente, ma perché queste macchine non frena nulla? Io non dico frenare poco, ma nulla. A parte che sono abituato alle GR3 e questa sta sbandando anche sul pezzo di curva. Prima? Ma che come ci dà la storia questa macchina? Certo che dopo essere abituato alle GR3, è ridicolo beh ragazzi dai è stata una bella live ha giocato Carla domani ci vediamo su Warzone gioco diverso con il mitico Pierpaolo Lord Zavituzzo TV se forse è libero di venire e sicuramente il grandissimo Morris ma quando devo frenare ma quando devo frenare e poi tra l'altro perché mi parte dalla quarta mi parte Mamma mia ragazzi Che macchina Che macchina amici Cioè deve essere scritto le charger Sennò dobbiamo fare con la luce Adesso bisogna fare un anno Recharger, l'unica sigla che deve essere scritto Recharger Allora non sono ricaricabili Ok amici di Twitch Vi saluto, vi ringrazio Ci vediamo domani, sono stanchissimo E ci vediamo domani sera con Warzone Il mitico Morris Il mitico Magari Gioca anche Zane Boy E il mitico Lord E il Pierpao Ciao a tutti ragazzi Da Marco Drums Games è tutto Buonanotte e ci vediamo domani Ciao amici di Twitch Vi lascio con la mitica Countach Lamborghini Countach Ciao amici Ciao amici nave Ciao amici Ciao amici Sì Ciao amici